Il suo saluto alla città, alla provincia di Taranto. Ma io, per me non è un addio e un arrivederci, perché questo è un territorio fantastico che mi ha assolutamente affascinato, nel quale credo di aver tessuto dei legami importanti e dei rapporti d'amicizia assolutamente forti, ragion per cui mi rivedrà questo territorio. Non riesco a pensare di poter abbandonare gli amici di Taranto e della provincia di Taranto, dalle tante persone alle quali mi sono legato affettivamente. Vado via da Taranto dopo due anni e mezzo, che sono stati contraddistinti chiaramente da quell'emergenza pandemica che in qualche modo ha rischiato di stravolgere, e in parte lo ha fatto, le esistenze di tutti. Me ne vado sapendo di aver cercato di fare al meglio il mio dovere, lasciando a questa città una polizia di Stato che come nei decenni passati ha sempre dato prova di grande qualità, di grande professionalità.